Domani manifestazione nazionale della destra a Napoli e ne parliamo con il consigliere comunale Maurizio Federici che proprio da un paio di mesi se non vado errate è transitato proprio nella destra. Innanzitutto perché questo passaggio? Io penso che chi come me si è iscritto a 14 anni a quella colonizzazione giovanile che allora si chiamava Giovani Italia che fu l'ultimo presidente nel 1970 e poi segretario del fronte della gioventù cioè chi come me ha militato sempre nel movimento sociale italiano non poteva che tornare come ha detto quando venne storace a Viterbo nella casa del padre anche perché non potevo certo andare nella casa del cognato. Qualcuno però potrebbe dire che lei rivendica le sue origini fasciste? Ma io sono nato anche se ormai è tanto tempo fa, sono nato il 26 novembre del 1951 per cui il fascismo era morto da sei anni però una nostalgia mi è rimasta e quella nostalgia non me la potranno mai levare, la nostalgia dell'onestà. Tra le cose infatti appunto che riguardano un discorso di onestà lei è stato tra i primi a chiedere di abbassare quelli che potevano essere i gettoni di presenza gli emolumenti insomma dei consiglieri comunali e altri. Beh veramente sai alle chiacchiere sono capaci tutti, ai fatti pochi anzi in Italia solo noi nel senso che quando Prodi allora il presidente del consiglio chiese di abbassare almeno del 10% le spese della politica italiana l'unico fu il capogruppo di AN di allora, cioè il sottoscritto che fece un ordine del giorno in consiglio comunale per abbassare del 10% lo stipendio del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali. Quell'ordine del giorno poi fu ritirato perché nel frattempo sembrava che questa fosse legge, non fu così tant'è che in Italia poi nessuno applicò quella legge Prodi che in Italia però la città di Viterbo applicò la diminuzione e quel gettone di presenza che voglio ricordare a tutti al di là delle polemiche che a Viterbo era 59 euro l'orde, adesso è 52, vi faccio esempio ci sono città simili a Viterbo dove il gettone di presenza va dai 50 ai 200 euro, dunque fare polemica su un gettone di presenza di 52 euro è veramente in questo caso solo demagogia e populismo. Comunque tra l'altro ecco la sua richiesta avvenne diciamo in tempi non sospetti, non come adesso che magari viene invocato un po' da tutti di tagliare quelle che possono essere considerate le spese ai politici ma in tempi veramente lontani. No, no, la mia richiesta è del 2006, sindaco Gabbianelli che per prima approvò fra l'altro la sua riduzione di stipendio del 10% perché era il sindaco di Viterbo. E perché adesso non ci si riesce a farlo anche a livelli più alti naturalmente di quelli che possono essere i comuni? Perché forse bisogna capire che la politica non è avere e dare. E capisce che è servire e non essere i serviti. Tutto qua. E' per questo che è ritornato alla destra? Più che mai alla destra? Certamente. Sono tornato appunto come ho detto prima per una nostalgia di onestà che non posso rinnegare.